Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno individuato e catturato nella notte tra domenica e lunedì, nella frazione di Carrara di Fano, due cittadini albanesi di 24 e 21 anni, ambe due clandestini e con precedenti per droga. Alle prime luci dell'ABA, gli uomini della volante di pattuglia, in un servizio mirato al contrasto dei furti in appartamento, hanno notato i due a girarsi furtivamente a piedi per le strade del quartiere e per questo sono stati subito fermati ed identificati. A carico del 24enne è risultato essere in atto un decreto di espulsione già commissionato in precedenza all'albanese, ma il giovane, in barba le disposizioni di legge che impongono un divieto di rientro sul suolo italiano non prima di 5 anni, è stato per questa violazione arrestato. Inoltre al giovane albanese, dopo la convalida dell'arresto, è stato condannato a un anno e otto mesi per il reato ascrittogli e sarà nuovamente espulso. Il 21enne, anche egli già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di droga, ha subito un decreto di espulsione e pertanto verrà esudato in queste ore al suo paese di origine.